margherita panziera allora ieri era andata troppo bene oggi non è andata troppo male perché insomma è arrivata la qualificazione diciamo ancora con un bel tempo sì sì no infatti il tempo di ieri era stato stratosferico però vabbè sì un po di rammarico perché magari speravo di fare poco più di ieri o anche quello che avevo fatto ieri però almeno ho preso il tempo e comunque è un bel tempo per me nel centro domani si vedrà al 2 cosa viene fuori avevi fatto un pensierino battere federica beh sì per forza si va in acqua per vincere non per partecipare cosa che ti è mancato oggi che invece hai avuto ieri sì esatto beh ma in staffetta si dà sembra qualcosa di più forse però sì vabbè dai